ciao a tutti bentornati sul canale youtube di easy arp allora dischi di armonica da ascoltare se vi dico paul battlefield probabilmente lo conoscete e se non lo conoscete andate a conoscerlo paul battlefield grandissimo armonicista che continua a ispirare noi armonicisti di oggi ha lasciato tantissimi dischi uno più bello dell'altro ma io ne ve ne propongo uno in particolare ovvero paul battlefield better days non è un primo disco di paul battlefield siamo già inizio anni 70 non c'è più la band originale ma è un disco assolutamente da ascoltare ascoltare riascoltare qualità audio fantastica tra l'altro quello che a me piace di questo disco e che è paul battlefield e tutti i musicisti chiaramente coinvolti è assolutamente a servizio della musica la sua armonica è a servizio della della musica è un disco molto originale perché si esce fuori dai canoni classici del blues e si c'è una commistione di generi ma quello che che veramente bello è il fatto di ascoltare questo disco ascoltare ascoltare non vi stuferete mai di ascoltarlo perché è ricco di musica musica di altissimo livello all'interno del disco chiaramente paul battlefield cantante armonicista ci regala delle chicche in particolare ascoltate il fraseggio di paul battlefield in questo disco il come sono le sue frasi la sua precisione la sua capacità espressiva che quindi le sue frasi sono oramai raffinatissime comprensibili raffinate e quindi è sicuramente qualcosa da da cui prendere ispirazione e già all'inizio del disco new walking blues è qualcosa di molto particolare si parte dalle origini del blues brano di robert johnson e viene stravolto in una chiave nuova molto molto interessante quindi questo ci fa capire proprio dall'inizio del disco che andiamo verso direzioni interessanti musicalmente molto molto interessanti paul battlefield better days ascoltate e ascoltate e ascoltate e ascoltate bene questo video di oggi fammi sapere nei commenti se conoscevi già questo disco se l'hai scoperto tramite questo video ma soprattutto cosa ne pensi della musica contenuta in questo fantastico disco se ti è piaciuto il video lascia il tuo like se non sei ancora iscritto al canale iscriviti ora buon proseguimento di estate a tutti ciao ci vediamo alla prossima